Vero? Ha fatto pure scala reale. Ora si che riconosco il mio Michelone. Ma su, ma dai, ma dimmi che ti piace. Ma non pensare ai soldi, ma dimmi, dimmi colonna mia. Dai, colonna mia. Si, si, vabbè, colonna mia, colonna mia. Marisa! Ma che vuoi? Ma che sta bestiaggia? Ma come hai detto che non veniva? Invece è venuta. Ma dove mi mettono? Ma qui sotto. Sotto al letto. Ma non c'entra qua sotto? Oh, si che c'entra, c'entrano tutti sotto. Marisa! Quello porco, non c'è un accidente, c'è un accidente a lui. Quel dannato, quel cagnaccio della malora, quel fiol d'un can, quella maledetta bestiaccia. Dico, ma c'è la propria, com'è quel disgraziato? Ma si vede che non ti aspettava. Ma cosa pretendi che telefoni anche al cane per avvertirlo che arrivo? Dico, non so mica, guarda qua cosa mi ha fatto. Mi ha strappato il pantalone, guarda lì che roba. Ma neanche io ti aspettavo, micione mio. Ma guarda. Ma dimmi, ma cosa c'hai? Sei nervoso oggi o bello? Lo sai che non me lo devi fare il mosso del somaro? Non lo sopporto. Ma dai, su, non fare la capricciosa, su, Marisina. Tra l'altro non ho mica tanto tempo. Ma dimmi, ma che cosa c'hai oggi? Ma prima telefono e dici che non vieni. Ma dopo vieni e pretendi di fare tutto di corsa. Ma si può sapere dove credi di stare, al suo service? Ma beata, a te che ti va sempre di scherzare. Ma lo sai che io oggi dovevo avere la finanza in fabbrica? Meno male che ho un caro amico che mi ha avvertito. Oh, dico caro perché mi costa un bucchio di baiocchi. Ma dai, Marisina, passerottino mio, su, dai, con tutta la fatica che mi tocca fare per trovare un buco. No, dico un buco di tempo. Tu mi fai la sostenuta per uno sbuffetone. Ma siamo seri. Ma dai, forza su, che c'ho fretta sua. Beh, e io no. Ma dimmi, perché cosa mi prendi, vai? Ma che cosa credi che sia, un giubbos? Ma dai, se non scherzare, Marisina, spogliati. Tu mi conosci, Marisina, a me mi basta vederti e parti in tromba, poi. E poi lo sai che per me il tempo è denaro. Dai, che ti faccio un po' il solettichino, sì. Così, sì, così, così. Ecco il tuo lupone che ti morde tutta. Bella pecorella mia, sì, toccami, toccami, che mi piace. Brava, così, toccami. Insisti, toccami, insisti ancora. Che bello che mi piace. Su, ancora, così. Oddio, il telefono, sarà per me. Ho detto di chiamarmi qui. Pronto? Ah, sono io, sì. Ah, è Zaccaria. Zaccaria, il mio ragioniere, sarà sicuramente un caso di urgenza. Pronto? Mi dica tutto, cosa è successo con la finanza? Ah, tutto bene, sicuro, bravo, bravissimo. Allora cosa c'è? Dica, dica. Ma quale assegno? Ah, sì, quello del napoletano. Ma sicuro che lo pelo sempre a quel cretino. No, no, non lo versi. Lo dia a quelle sorelle lì, come si chiamano? Nascin beni, incontro fornitura latte. Ma che fa, Zaccaria, ride? Ci vediamo fra poco, eh, addio. Dai, Marisena, dai. Dai, chi si ferma è perduto. Dai, forza, dove eravamo rimasti?